Allora Natascia, adesso abbiamo un gruppo che ha fatto un pezzo straordinario, una canzone che ha fatto ballare tutti, ma proprio bella, bella, vera, Mad About You. E voi riconoscete benissimo, pensate che loro come gruppo si sono formati nel 1997 e hanno già fatto tre album. Sono famosissimi anche per aver fatto colone solare di film e telefilm. È vero, è vero, infatti il loro legame con la tv è fortissimo, a parte che hanno fatto videoclip meravigliosi. Ma c'è anche uno di loro che si chiama Alex, lui ha iniziato la sua carriera, penso un po', come tecnico del suono nelle televisioni del Belgio. E allora noi ne approfittiamo per fare un applauso a tutti i tecnici che lavorano qui al Festival Bar. Grazie! Grazie anche alla regia di Egidio Romeo con Out of Sight, Jule Boni! Grazie! 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 Six years, such a long time I can't give you what you need Six years, such a long time Something special between you and me We'll always be best friends Something between you and me We'll always be best friends Something between you and me We'll always be best friends Something between you and me We'll always be best friends Something between you and me We'll always be best friends 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 I'll always be best friends